musica ciao a tutti ragazzi eccoci qua con la nuova puntata di epic week anche questa settimana vediamo soltanto i due giochi di epic perchè ci stanno solo quelli raga ci stanno altri giochi in regalo purtroppo però devo dire la verità questa settimana ho avuto una bella sorpresa almeno io perchè era previsto un solo gioco la settimana scorsa invece ce ne hanno regalati due il primo è quello che mi ha stupito in realtà veramente perchè a parte che non lo conoscevo parliamo appunto di darkwood già l'avete letto è un survival molto particolare avete visto il video state guardando è con la visuale dall'alto quindi diciamo che è qualcosa di un po' particolare insomma in confronto ai survival a cui siamo abituati che di solo sono in prima persona e in terza persona e poi a parte questo cioè proprio mi sembra proprio un bel gioco almeno a vederlo così visivamente i disegni, la grafica cioè mi piace veramente solo a guardare il video mi viene voglia di giocarci poi andiamo a dare pure un occhio diciamo a cosa ci propone lo traduciamo pure perchè noi con l'inglese ovviamente siamo fortissimi ma siamo legati alla nostra terra quindi preferiamo l'italia allora darkwood una nuova prospettiva sul survival horror cerca ed esplora un mondo ricco e in continua evoluzione di giorno in giorno quindi accovaciti nel tuo nascondiglio e prega per la luce del mattino allora praticamente come ho letto è anche un gioco interessante a parte graficamente ma anche da giocare perchè come abbiamo già capito la prospettiva è dall'alto poi non ci sono aiuti nel senso che non ti dice dove devi andare che c'è la freccetta e ti indica la strada queste cose qua dovete esplorare quindi andare in giro cercare cose costruire equipaggiamenti di giorno esplora i boschi sempre sinistri generati casualmente quindi i boschi di partita in partita di notte in notte cambiano e se pensavate magari di conoscere quella zona non è così perchè di giorno in giorno può cambiare diciamo la mappa diciamo può cambiare di giorno in giorno cerca materiale, crea armes scopri nuovi segreti di notte trova riparo barrica di piazza trappole nasconditi o difenditi difenditi dagli orrori che si nascondono nell'oscurità ottiene abilità e vantaggi estraendo una strana essenza dalla fauna e dalla flora vabbè prende decisioni però questo è interessante che influiscono sul mondo di Darkwood sui suoi abitanti e sulla storia che vivi quindi le decisioni che prenderemo lungo la strada daranno vita diciamo diciamo tra virgolette a bivi che porteranno ad un finale diverso probabilmente non lo so spero però cioè sarebbe una sorpresa ancora in più perchè non conoscendo proprio il gioco e non avendolo mai sentito nominare mi meraviglierebbe diciamo che ci siano tutte queste cose anche i finali alternativi che di solito non ci sono in questi diciamo tra virgolette sempre virgolette giochini poco conosciuti con il passare delle notte i confini tra la realtà e la fantasia dell'incubo iniziano a sfumare sei pronto ad entrare nel Darkwood? ragà io questo lo scarico perchè veramente mi è venuta voglia di provarlo e a parte tutto è anche in italiano almeno l'audio forse non c'è proprio l'audio nel senso che non non c'è la lingua parlata ma ci sono solo i sottotitoli e comunque ci sono anche in italiano cioè nel senso non c'è l'audio del parlato penso ci saranno forse solo le scritte diciamo una cosa così vabbè da qualche parte dovevano risparmiare e comunque ragà veramente è un gioco molto molto interessante adesso fortunatamente è uscito questo perchè l'altro andiamolo a vedere l'altro gioco è Toe Jam and Hell Back in the Groove che raga veramente non ho capito che gioco è sempre tradotto in italiano una delle migliori caratteristiche dei classici giochi per console con un sacco di nuovi e originali miglioramenti vivi il gioco roguelike originale con i nuovi quattro giocatori con i nuovi quattro giocatori vabbè tradotto è cooperativa locale i pazzi terrestri vabbè comunque raga vedendo il video io veramente non ho capito che gioco è cioè questo è il gioco questo è il gameplay questo è vabbè in schermo condiviso e amici si può giocare pure online però non ho capito non ho capito non ho capito il senso del gioco qual è cioè cosa cosa si fa in questo gioco non lo spiegano nemmeno cioè se vi andate a leggere qua non c'è scritto che cosa cosa si fa in questo gioco e restamente non mi viene manco voglia di scoprirlo e ripeto ancora per fortuna questa settimana che è uscito l'altro gioco perché questo veramente non lo so non voto da 1 a 10 0 proprio 0 cioè posto che un gioco è brutto è bel questo non manco cioè non si capisce nemmeno che gioco è 0 però sempre a livello non ci ho giocato quindi magari poi giocando ci diventa una meraviglia però cioè se lo doveste comprare voi lo comprereste questo gioco io no vabbè comunque direi di fermarci qua con questa primizia diciamo con questo ultimo gioco che è una primizia e vabbè quindi ci fermiamo qui direi mi raccomando come sempre iscrivetevi al canale lasciate un like qui sotto se vi va e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao